lezione 12 del francesconi primo volume allora prima di partire facciamo un esercizio preparatorio sul colpo d'arco in questo esercizio il colpo d'arco funziona in questa maniera semi minime tutto l'arco o buona parte dell'arco diciamo almeno fino a qui e le crome molto piccole e poi studiate l'esercizio preparatorio sulla scala di do maggiore con questo colpo d'arco ovviamente con il metronomo metronomo l'ho messo a 60 alla semi minima poi se se siete bravi provate a fare anche un po più veloce arrivare fino a 65 lo studio si basa sempre 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 su questo colpo d'arco quindi semi minime tutto l'arco crome una piccola porzione al tallone o alla punta lo studio della lezione 12 fa così vado 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 lo studio della lezione 12 fa così vado